Più di 130 pagine di dati, grafici, tabelle e informazioni che parlano di investimenti e di un impegno verso una sempre maggiore sostenibilità. Così la nuova edizione, la numero 17, del rapporto di sostenibilità di Colachem, il gruppo Cementiero e Ugubino. Il documento è stato redatto in conformità agli standard globali per la rendicontazione di sostenibilità e con il massimo livello di completezza informativa. La revisione è stata effettuata da Deloitte, società terza esaminatrice. Nel rapporto si citano gli investimenti ambientali di Colachem per un totale di 38 milioni di euro nel triennio 2021-2023. Tra questi spiccano i sistemi di filtri ibridi installati in tutti gli stabilimenti Colachem che hanno permesso di migliorare ulteriormente le emissioni specifiche di polveri da sempre ampiamente al di sotto dei limiti di legge e che nel 2023 hanno raggiunto il livello più basso di sempre, 5 grammi per tonnellata di clinker. Il documento evidenzia inoltre il continuo impegno di Colachem per la decarbonizzazione attraverso interventi sul processo e sul prodotto. L'azienda adotta sistematicamente le BAT, ovvero le migliori tecniche disponibili nei propri stabilimenti, e produce cementi con un fattore di emissione ridotto, cercando di garantire al contempo le migliori prestazioni fisico-meccaniche. In un'ottica di economia circolare, il 6% delle materie prime utilizzate proviene da materiali riciclati, mentre oltre il 22% dei combustibili fossili è stato sostituito con combustibili alternativi più sostenibili. Dal punto di vista sociale, Colachem impiega quasi 900 persone in Italia, di cui oltre il 99,5% con contratti a tempo indeterminato. Dal report emerge inoltre l'attenzione dell'azienda sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, con investimenti e una formazione continua. Il dialogo trasparente è la base delle relazioni aperte e collaborative con tutti gli stakeholder, spiegano dal gruppo cementiero. Gli stabilimenti Colachem, moderni e sicuri, sono sempre aperti a coloro che intendano visitarli, per comprendere come viene prodotto il cemento. Un materiale fondamentale per lo sviluppo economico e sociale del Paese e per la qualità della vita di tutti noi.